E tra i firmatari del protocollo che riapre le celebrazioni al popolo avete visto il ministro dell'interno Luciana Lamorgese che abbiamo in collegamento. Buonasera ministro e grazie per aver accettato l'invito. Buonasera. Allora, le faccio subito la prima domanda. È stata una trattativa lunga, un dialogo intenso con toni anche duri. Insomma, cosa vi ha convinto e ha determinato la svolta positiva e quindi il ritorno alle messe con i fedeli? Sì, sono stati giorni di intenso lavoro insieme con la conferenza episcopale. Siamo arrivati a questo protocollo che è stato esaminato anche dal Comitato Tecnico Scientifico che alla fine ha dato il via libera perché era necessario assicurare tutte le misure di sicurezza per i fedeli e perché ci fosse un ordinato ingresso anche nelle chiese, fermo restando l'esigenza di procedere comunque quanto prima. E infatti siamo riusciti in tempi brevi, dopo incontri che abbiamo avuto con la conferenza episcopale, come dicevo, anche a livello di presidenza del Consiglio dei Ministri, siamo riusciti ad arrivare oggi alla firma di questo importante protocollo che porterà le chiese aperte dal 18. Ecco, Ministro, ora è tutto affidato alla fiducia verso i fedeli e alla loro responsabilità insieme a quella ovviamente delle intere comunità ecclesiali? Io penso che i cittadini in questo periodo di restrizioni hanno dato grande prova di responsabilità e certamente lo faranno anche in questa occasione. D'altra parte sono previste delle misure di cautela che verranno osservate da tutti, ma anche da parte dei sacerdoti c'è l'impegno a che ci sia un ingresso ordinato durante le celebrazioni, ci sia la sanificazione dei locali, che si utilizzino tutti i sistemi, quali mascherine e quindi tutti i sistemi di sicurezza. Sono certa che alla luce proprio di quello che ho visto in questi mesi della disciplina che gli italiani hanno avuto, sono certa che l'apertura del 18 vedrà gli italiani insieme ai religiosi impegnati perché tutto vada per il meglio. Ecco, quindi mi pare di capire che il comportamento degli italiani in questa fase 2 la soddisfi? Devo dire che i controlli sono stati tanti, quelle che sono le multe, le sanzioni sono state davvero ridotte. Il momento che mi ha preoccupato di più è stato proprio l'apertura, il 4 di maggio, che ha consentito un'apertura maggiore e invece ancora una volta hanno dato grande prova di responsabilità agli italiani e quindi benvenga questa apertura della Chiesa perché il diritto di culto è un diritto importante e su questo ci siamo battuti, ma purché venga poi reso nella sicurezza assoluta per coloro che partecipano alle funzioni religiose. Ministro, un'ultima cosa, pandemia e povertà, anche il Papa se ne è occupato di recente, preoccupa l'attività di mafia e usurai, cosa state facendo? Dunque io ho già diramato una direttiva ai prefetti perché ci sia il massimo controllo e monitoraggio delle varie situazioni per evitare che ci sia una criminalità che vada ad insinuarsi nell'economia legale del nostro Paese e proprio anche in relazione alle notevoli risorse che sono arrivate sui territori, ancora di più c'è questa esigenza e abbiamo stipulato un accordo con la SACE e con il Ministero dell'Economia perché vengano garantite anche tutte le attività di erogazione di questi contributi che non finiscano nelle mani sbagliate e quindi con i necessari anche controlli antimafia. Grazie signor Ministro, grazie per la sua disponibilità e buon lavoro. Grazie, buona serata.